Allora più tardi soniamo? Sì, ma prima andiamo a bere qualcosa? Ok. Monta l'ultimo pezzo. Prima andiamo a bere qualcosa? Dai. Iniziamo l'esame. Ma prima andiamo a bere qualcosa? Ma andiamo a bere qualcosa? Sì, ma prima andiamo a bere qualcosa? Da McDonald's le bibite costano solo un euro. Prima di fare qualsiasi cosa, vieni a bere qualcosa. Grazie.